E adesso basta, i bambini, i bambini, i bambini, i bambini, i bambini, i bambini, adesso tutti i signori, i bambini, 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 i bamb La mia è la più bella! Allora, 13 dicembre 2014, Santa Lucia al Signore della Villa da parte di tutti gli amici qui riuniti. La prometta! La prometta! Brasileana! La prometta! 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 Sante amore, 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 amore. Sante amore, 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 amore.